allora il discorso sui brevetti in campo tecnologico e soprattutto i brevetti in campo software richiede ci sarebbe una lezione seminariale da fare solo su questo tema perché un tema molto molto delicato molto di frontiera e su cui tra l'altro non c'è molto con c'è non c'è consenso unanime da parte della comunità scientifica perché alcuni sono a favore della brevettazione di software dicono che il software vada brevettato perché è un modo per proteggerlo e garantisce maggior qui maggior la quindi non usciamo non usciremo molto vivi da sta cosa ok quindi però lasciatemi esprimere un po la mia mio punto di vista nell'ottica più che altro di generare una riflessione in voi poi vedete voi come come prendere questa cosa qual è il discorso che i brevetti nascono cioè l'istituto del brevetto nasce come incentivo all'innovazione se voi andate a leggere ad esempio l'articolo della costituzione americana quindi parliamo del fine 1700 in cui si parla di proprietà industriale cioè le prime forme di tutela proprietà industriale sia il brevetto che copyright nascono proprio con l'intento di incentivare la creatività da un lato e l'inventività l'inventiva dall'altro l'inventività non esiste l'inventiva dall'altro ok quindi l'obiettivo è quello cioè io io ho stato io ho ordinamento giuridico do una esclusiva ad un un unico soggetto il quale per un periodo di tempo è l'unico soggetto che può sfruttare economicamente quella creazione o quella invenzione e grazie a questo meccanismo io genero un incentivo a fare il cre a fare di lavoro i creativi o gli inventori capite quindi io attraverso questo meccanismo del diritto d'autore da un lato e del brevetto per invenzione cerco di io intendo ordinamento giuridico cerco di incentivare la creare le condizioni perché si incentivi il l'avanzamento della scienza e l'avanzamento della creatività e dell'intelletto umano visto che adesso si può guadagnare facendo i gli autori che è un po lo scopo della delle leggi delle leggi quelle che abbiamo citato all'inizio del corso le prime leggi francesi sul diritto d'autore perché sono arrivate proprio come risposta figlia dell'illuminismo della rivoluzione francese perché era un modo per rendere autonomi gli intellettuali cioè colui che di lavoro ha sempre fatto l'intellettuale prima cosa faceva prima doveva essere comunque finanziato da qualche mecenate quindi stava a corte si faceva finanziare e quindi perdeva anche un po la sua libertà per guadagnare gli intellettuali facevano spesso i precettori dei figli dei ricchi o dei nobili ecco con il diritto d'autore in teoria li hai resi autonomi c'è un intellettuale che scrive un'opera importante viene riconosciuto l'opera vende lui ha dei diritti su quest'opera e quindi quindi inizia a fare di lavoro il lo scrittore l'intellettuale la stessa cosa la potete portare nel campo della dell'invenzione dei brevetti quindi colui che di lavoro che ha spunti intellettuali di ingegno particolari che lo portano a inventare qualcosa di nuovo può remunerarsi grazie a questa invenzione e quindi di lavoro riuscirà a fare l'inventore sarà più spinto a fare questa attività e quindi appunto cioè questi istituti giuridici servono per incentivare l'innovazione il problema quello è che la deriva che hanno preso ultimamente è purtroppo inversa rispetto alla loro vocazione originaria vale sia per il copyright che per i brevetti no cioè il copyright non è più davvero una tutela per gli autori è diventata più una tutela abbiamo visto abbiamo visto come i diritti connessi stanno addirittura prevalendo sui diritti d'autore no quindi in una produzione televisiva gli autori sono pagati meno rispetto a quello che incassa la l'emittente la tv per i diritti connessi sull'emissione televisiva idem nel mondo dei brevetti l'inventore passa in secondo piano e passa in primo piano colui che poi registra l'invenzione e la riesce a monetizzare riesce a commercializzare industrializzarla ma a volte succede che in campo tecnologico non si brevetti nemmeno qualcosa che è davvero innovativo ma si brevetta qualcosa solo per bloccare quel campo cioè per mettere una bandierina questa è un po la la questione delicata e quindi e quindi questo va davvero contro va davvero in controtendenza va in direzione contraria rispetto a quello per cui erano nati i brevetti cioè se io registro un spendo dei soldi parliamo di tanti soldi spendo dei soldi per ottenere il brevetto su qualcosa che però in realtà in cui davvero non credo ma lo faccio solo perché così evito che un mio concorrente venga a rompermi le scatole su quel settore lì perché quel settore lì lo voglio tenere invece un po in sordina e un classico esempio è quello delle tecnologie diciamo per le legate alle energie rinnovabili se una tecnologia legata alle energie rinnovabili è nelle mani cioè se il brevetto è nelle mani di qualcuno che vive di petrolio di una grande multinazionale che fa petrolio che vende combustibili secondo voi sarà davvero interessata a sviluppare quel brevetto o sarà più interessata a tenerlo lì morente languente per per vent'anni intanto diventa vecchio e intanto loro hanno guadagnato del tempo e questo succede anche in campo appunto puramente di hardware software e quindi tecnologia quella più vicino a voi no cioè la tecnologia che ne so i vari apple google microsoft quindi grandi capitali del mondo della dell'IT dell'information technology ho sentito arrivo alla domanda rispondo dopo abbiate pazienza questi non sempre fanno davvero innovazione cioè a volte depositano un sacco di brevetti e poi su 50 che ne hanno depositati ne sviluppano davvero 3 5 10 ma 40 li tengono lì invece provate a mettervi nei panni invece di una piccola startup che non ha i soldi per brevettare 50 brevetti per fare scusate per brevettare 50 invenzioni ma ha i soldi sufficienti perché ha vinto un bando europeo per farne uno e quindi lei su quel brevetto li deve fare deve capitalizzare tutti i suoi sforzi e cercare di farlo fruttare quella è vera innovazione perché se tu gli togli quel brevetto loro non sono più neanche una startup non sanno non sanno davvero su cosa innovare il problema è che se questa piccola startup poi incrocia il campo del grande gruppo internazionale della grande multinazionale può essere che questi non ne freghi nulla davvero dell'innovazione ma abbiano interesse che non ci sia una piccola startup italiana o estone o albanese che gli rompe le scatole su un settore che per loro è strategico e quindi cosa fanno comprano il brevetto oppure fanno un brevetto simile o fanno gli fanno un'opposizione cioè fanno una delle tipiche strategie che gli studi gli studi di avvocati del settore conoscono per rompere le scatole ad un concorrente sulla materia della proprietà industriale e gli mettono il bastone tra le ruote e con lo scopo appunto non tanto di difendere una loro innovazione che sarebbe quello sarebbe lo scopo legittimo ma tanto per quanto per bloccare e inibire l'innovazione da parte di un concorrente quindi se è così effettivamente non ha molto molto senso diciamo spostare il far diventare i brevetti questa roba qua ecco quindi riflessione adesso guardo la domanda che è stata fatta però visto che volevo registrare sta parte riflessione importante che lancio come come spunto per approfondimenti anche personali per ricerche o per o per tesi